Questa porta è un lavoro del 69, è esposto molte volte e allora Germano l'ho voluto anche qua. La cosa era di trovare questa porta che, come tutte le porte, hanno a che fare con la misura di un uomo. Tutte le porte sono fatte così. E poi si prestava per poter fare inserire dentro una sensibilità, una sensibilità arcaica. Inizialmente avevo fatto la cosa con il carbone, la 67. Prima di tutto era un'uscita dal quadro. E questo è un fatto anche generazionale, diciamo, l'uscita del quadro e affrontato da queste persone dell'arte povera. L'arte povera è una cosa, per quello che riguarda l'Italia, è una cosa complessa. Molto complessa perché entra nei grandi canali che la dialettica offriva. E questa è l'arte povera. Io penso che sia innanzitutto dialettica.